Questo è il famoso cappelli che adesso sembra sia diventata un po' una moda. Se la vogliamo chiamare moda, secondo me magari qualcuno sta prendendo coscienza che un grano di inizio 900 che ancora non aveva subito tutti quei fenomeni di ibridazione, poi si dice anche di irraggiamento delle nuove varietà eccetera, questo grano ha delle qualità particolari nella pastificazione e anche nella digeribilità, ma se vogliamo anche nella resa, 100 grammi di pasta di cappelli crescono una volta e due rispetto a 100 grammi di pasta di grani moderni. Quindi c'è tutta una serie di motivi per cui questo grano e questa pasta stanno tornando in auge. Aggiungo che adesso diversi forni cominciano a fare del pane usando la semola, il rimacinato oppure il semolato da un lino a pietra da senatore Cappelli. Il ritorno al cappelli e quindi anche alla pasta prodotta con farine, semola derivanti dal grano cappelli è anche un modo per spiegare un'alimentazione diversa. Questi grani qui che vengono dall'inizio del 900 non hanno subito tutta una serie di operazioni che poi i genetisti hanno messo in atto sui grani duri per abbassarne la taglia, aumentarne la produttività e questo ha comportato probabilmente una variazione troppo rapida della qualità del glutine per cui si è andato incontro a delle paste meno digeribili. Sapere che questo grano può essere coltivato senza ausilio di concimi, nel senso che se viene con una rotazione corretta dopo delle leguminose praticamente non c'è quasi bisogno di concimarlo, senza assolutamente utilizzo di pesticidi, significa che questo comunque è un prodotto più sano. E poi è anche più digeribile. L'indice di glutine di questo grano, quindi un indice tecnologico, non possiamo dire, ci dice che pur avendo molte proteine l'indice di glutine è basso, è circa la metà delle altre paste. Il futuro di questa varietà qual è? Il futuro di questa varietà è un futuro che noi vediamo a Rosio con una sua maggiore valorizzazione, cioè vorremmo puntare sul cappello autentico e come centro di ricerca per la cericoltura noi metteremo la faccia su quello che è il cappello autentico e che può garantire tutte le caratteristiche del frumento senatore Cappelli. Il cappelli può essere definito cappelli, deve essere puro. Oggi c'è la tendenza a rigenerare la semente che a lungo andare può essere inquinata, quindi se uno vuole avere effettivamente il cappelli originario, quello del 1915 diciamo, deve venire qui perché noi siamo i detentori, i costitutori della varietà e abbiamo il nucleo base da cui poi prelevare il seme per ottenere nuove produzioni. Parliamo dell'Istituto Sperimentale Agronomico di Foggi, mi pare, se non ho mai errato, Romano, in questo caso, parliamo di voi perché diceva l'intervistato deve venire qua e la gente si chiede qua dove? Allora diciamo a Foggia. Io mi andrei invece a Milano perché vedo che lì nello spazio di Zullo ad Italy ci sono già dei tavoli occupati e siamo in un'ora in cui stiamo registrando intorno alle 18 e quindi dalle nostre parti, in Italia in particolare, non è ora di pranzo o ora di cena, siamo in un'ora di mezzo in cui la gente fa altro. Mi dico che il collegamento non è possibile per il momento, lo faremo fra un po'. Romano, c'è un altro alimento che sta andando di moda, ha ripreso a crescere alla grande, fa numeri quasi esponenziali, la farina di grano arso. Ma che cosa è? Di che cosa stiamo parlando? La farina di grano arso è un prodotto che è stato riportato in auge da alcuni ristoratori, tra cui appunto Peppe Zullo, e che deriva da quello che una volta accadeva nei campi, cioè dopo la bruciatura delle stoppie si lasciava agli operai la possibilità di raccogliere questi chicchi che erano appunto rimasti sui campi. loro li raccoglievano, li macinavano e questa farina la utilizzavano sia per tagliarla con altra farina bianca, con semola, quindi con grano duro, oppure anche come merce di scambio. Quindi riuscivano con, diciamo, grosse quantità di grano arso ad ottenere magari piccole quantità di semola. Ecco, ma adesso che i campi non si bruciano più, questo grano arso da dove esce? Dove si produce? Si produce ovviamente come le altre farine, ma viene tostato attraverso appunto un procedimento di tostatura, quindi non viene più bruciato. Non è più il grano di arso di una volta, cioè non si vanno più a raccogliere gli avanzi della mietitura bruciata? No, assolutamente no. Si fa in laboratorio allora? Assolutamente no, viene appunto come dicevo prima tostato proprio per ottenere questo sapore particolare e per non far male alla salute, perché ovviamente se fosse grano bruciato non ci farebbe molto bene. Anche questo bisogna spiegare. Professor Boschetta, molti credono che i cibi di una volta siano più genuini dei cibi di oggi, no? Ad esempio il grano arso, altro non era che la macinatura della ristoppia, di quello che rimaneva del taglio del grano, che veniva bruciato, cioè poi tutto si macinava e la gente mangiava che cosa? Mangiava carbone, mangiava no? Si, esattamente, però il dato positivo di tutto questo movimento è quello di aver portato all'attenzione l'importanza dei diversi tipi di farina, perché poi noi stiamo spiegando delle cose bellissime ma arrivano alla tavola come prodotti finiti, cioè arriva la pasta, arriva la farina. Allora l'obiettivo credo di Peppe Zullo ma ugualmente del giornalista era quello di dire oggi noi sappiamo che mangiando pane, mangiando pasta abbiamo la capacità di assumere zuccheri perché sono carboidrati e allora l'obiettivo di tornare al grano arso o al senatore Cappelli al di là delle qualità nella coltivazione, perché molte volte noi compriamo grano che arriva dall'estero, non ne conosciamo l'analisi dell'origine trasformandolo in farina 00 e come quella macchina della carne trita che ci dà un prodotto finale la cui partenza non è sempre di qualità nota. Il nostro senatore Cappelli lo coltiviamo, dicevano prima, in maniera ottimale ma alla fine sulla nostra tavola cosa arriva? Arriva un prodotto che sono carboidrati e voglio rubare un minuto ancora per dire che cosa è successo, perché siamo diventati obesi. Noi abbiamo la obesità viscerale, cioè abbiamo la pancia. A cosa è dovuta? Non è dovuta solo al fatto che mangiamo troppi grassi, ma è dovuta al fatto che mangiamo anche troppi carboidrati ad altro indice glicemico, cioè zuccheri. Un bimbo oggi in 4 cm3 trova il contenuto di zucchero che negli anni 70 avrebbe trovato in 4 metri cubi di frutta o di grano arso o di farina derivante da senatore Cappelli, da farro, da orzo, da avena. La nostra farina 00 insieme agli zuccheri, mangiata soprattutto quando non facciamo più movimento, quindi sedentarietà, ci dà il picco di glicemia e questo glucosio va al fegato, il fegato non potendo utilizzarlo lo trasforma in grassi e lo deposita nella pancia. Tanti anni la nostra pancia, e lo dico a beneficio anche dei telespettatori, non è solo da grassi, ma è da zuccheri, perché l'organismo è fatto in maniera tale che lo zucchero in più lo trasforma in grassi per riutilizzarlo. Quindi questo grande movimento delle farine, ringraziamo gli chef, l'amico Peppe Zullo e gli altri, è molto importante perché ci dice, torniamo all'origine, non solo perché quelle cose vecchie sono belle, questo succede anche in politica, quando c'era il senatore, in realtà poi andiamo a vedere se è vero, in realtà serve a dire attenzione ai carboidrati, attenzione al contenuto, questo perché non vogliamo rinunciare alla tradizione, alla pasta, quindi innovazione e cultura medica insieme. Messe insieme, andiamo a Milano, vedo Massimiliano Bordignone, Massimiliano vedo che ci sono dei giovani, delle persone già sedute a tavola, che cosa stanno mangiando, ce li fai conoscere? Sì, senz'altro siamo collegati appunto con il ristorante pugliese, andiamo un po' a vedere, il ristorante si sta animando anche se di lunedì potete immaginare non c'è una grande folla, abbiamo in questo caso delle persone che arrivano addirittura dal Brasile ma che hanno manifestato di conoscere molto bene la cucina pugliese e andiamo un po' a vedere che cos'hanno, che cos'hanno mangiato, lo chiediamo a Pepe Zulo direttamente che è qui con noi. Beh, è un onore avere tanta gente da tutto il mondo, perciò l'Expo è il mondo e poi ecco il tema, nutrire il pianeta, energia per la vita, noi a questi signori che vengono dal Brasile li abbiamo nutriti bene e ci hanno più energia. Chiediamo a questo signore cosa ne pensa delle orecchiette. E' molto buono, sì, l'orecchiette con cimi di rap è molto buono, ho mangiato in Puglia nell'ultimo anno e sempre che posso mangio le orecchiette, sì. Però cosa ne pensa oggi, queste orecchiette le ha viste scure, con il grano arso, ha qualche sapore in più, qualcosa di più interessante? Sì, 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 è anche meglio che quello che ha mangiato, sì è meglio. Ecco, il signore tra l'altro è stato in tantissimi posti in Puglia, ce ne dice almeno tre. Come? Tre posti della Puglia nei quali lei è stato. Polina Nammare, Aubervello e Bari. Quella più facile. Andiamo però qui di fianco al tavolo, quello dove ci sono dei giovani, come in effetti ci avevate detto, giovani che lavorano proprio qui e due, anzi uno, Alessandro arriva direttamente dalla Puglia, da dove? Da Bari. Lo giochiamo in casa. Che cosa mangerai qui al ristorante pugliese? Ho già mangiato le orecchiette e proverò altri piatti. Orecchiette particolari, come diceva Peppe Zullo, un sapore... Più deciso, cioè è diverso da quelle normali. Chi invece le orecchiette ancora non le ha mangiate è un altro volontario che lavora qui a Milano, si tratta di Francesco, che tra l'altro è anche membro attivo dell'associazione pugliesi. Ecco, ci racconti un po' che cosa mangerai. Sì, volentieri. Io non volevo ripetermi, però ancora le orecchiette, perché mi ricordo a mia zia che artigianalmente le faceva proprio di sana pianta. Le orecchiette per me è il piatto principale e invito chi non è stato in Puglia di andarci. Grazie Massimiliano, poi torneremo se sarà possibile ancora con te. Professoressa, voi ai vostri ragazzi all'alberghiero insegnate come si fanno le orecchiette. Loro escono dalla scuola all'alberghiere, poi tornano a casa, sanno fare le orecchiette o i cavatelli. Sicuramente, sì. Non li sanno solo cucinare, ma proprio preparare come pasta. E chi glielo insegna? Avete delle donne di bari vecchia? Beh, ci avvaliamo spesso della collaborazione di anziani, soprattutto quando facciamo la ricerca di alcuni piatti particolari che sono magari stati dimenticati o entrati in disuso. Ci avvaliamo della collaborazione di persone di questo tipo. Abbiamo fatto diversi corsi dove abbiamo invitato delle signore della città vecchia a preparare le orecchiette, ma non solo quelle. Il pane in una certa maniera, i lieviti particolari. Comunque i ragazzi imparano un po' di tutto. Insomma, l'alberghiero... Da noi il bimbi non esiste. Il bimbi non esiste. Però è una grande cucina. Ogni giorno si apre una cucina straordinaria che produce cose anche interessanti, straordinarie. Ma poi quando la cucina chiude, tutto questo prodotto dove va? Le orecchiette che fanno i ragazzi, poi che fine fanno? Se le portano a casa? Le mangiano. Le mangiano lì a scuola? E con suetudine che i ragazzi... E quindi fanno la prova e lo sperimentano? Esatto, sì. E anche quella è educazione alimentare. Imparare il sapore di certe cose. Magari diverso da quello che ha preparato la loro mamma, piuttosto che la loro nonna. testare quello che si cucina, è fondamentale. Ecco perché probabilmente... A volte sono un po' robusti. Tutti gli chef non è che siano proprio magrolini. No, di solito no. Non ti danno l'idea della fame, della mancanza, della carezza di cibo. Ma sono... Una delle nostre abitudini ancora, a Romano, abbiamo visto nel collegamento, prima abbiamo inquadrato il piatto del signore brasiliano che mangiava le orecchiette col pane. Cioè, carboidrati su carboidrati, siamo proprio, mi pare, alla contraddizione più clamorosa. Sì, l'ho notato anch'io e in effetti è difficile poi non fare la cosiddetta scarpetta nei piatti della cuscina pugliese, in particolare per quello che era il ragù della domenica, quindi si finiva sempre con questo pezzo di pane nel piatto o in alcune zone con altri prodotti come la farinella di putignano, ad esempio, che finiva nel piatto e serviva appunto per raccogliere tutto. Ma questo non sono scelta, fa bene a quella famosa salute di cui parliamo. Ma il nostro pane è fantastico, fa parte della nostra tradizione come la nostra pizza. Bisogna calibrare la nutrizione alla tipologia della persona, individualizzarla al paziente o al cittadino. Io credo che faccia bene, noi abbiamo tutta una teoria sugli orari in cui va assunta, però calibriamola alla persona come quantità e come qualità. Perché adesso lo introduce un argomento nuovo, cioè ogni cibo va mangiato ad un'ora particolare. Adesso che noi conosciamo i ritmi circadiani, guardi, noi siamo diversi. Un piatto si dice che ha determinate calorie, in realtà lo stesso piatto assunto dalla stessa persona alle 8 del mattino, alle 12 o alle 22 crea in noi un cambiamento totalmente diverso. Per cui l'idea è quella che i carboidrati vanno bene e assunti il più possibile in relazione a quando spendiamo il metabolismo basale. Quindi colazione e pranzo piuttosto che cena. Faccio un esempio, chi lavora parecchio, soprattutto la mattina presto, come me, dovrebbe mangiare gli spaghetti alle 5 del mattino. Esatto, ecco, non mettiamola così perché altrimenti si spaventano tutti. Però l'obiettivo è che i carboidrati vanno utilizzati quando poi li puoi spendere. Magari in una maniera tale, associati a verdure, associati, abbiamo visto, perché orecchiette cime di rape fatte di grano arso, basso indice glicemico, le cime di rape fibre, quindi non solo non si ha il picco perché l'indice glicemico non è alto, quando anche viene assorbito più lentamente perché ci sono le fibre. questa era la nostra dieta mediterranea e a quel punto un po' di pane ci sta, magari con il senatore Cappelli. Ce l'ha insegnato il signore brasiliano, la pubblicità.